Bene, buongiorno, benvenuti, porto il saluto mio dalla Regione Lombardia e del Presidente Maroni a questo importante convegno e alle manifestazioni fielistiche che lo seguiranno. Beh, innanzitutto noi prendiamo atto di una cosa, qui stiamo parlando di un prodotto insostituibile che se ne dica e qualunque cosa dicano quelli che partono da posizioni ideologiche. Questo è il dato di realtà. L'altra questione è che in Italia, partendo dalla materia prima, si crea valore. Il valore è dato dalla creatività, dalla capacità di lavorare e di fare prodotti che siano all'altezza delle idee che li hanno generati ed è fatto anche di un altro elemento essenziale della filiera produttiva che è la sostenibilità ambientale. Leggendo i temi che saranno oggetto del vostro convegno, si comprende come questa sia la prima delle vostre preoccupazioni, di un'attività industriale che come le altre è elemento essenziale di un panorama economico, tanto più in Italia che è leader in questo settore e che sa che il valore che crea è figlio anche di una capacità di rendere sostenibile e quindi di dare un futuro alle attività produttive. A me pare che questo sia una preoccupazione importante a cui si è dato grande seguito anche attraverso grandi affinamenti e progressi dei processi produttivi e anche attraverso grandi investimenti, che credo rispondono in modo adeguato ad una necessità che è di tutti ma che va affrontata in termini pragmatici. Non può essere quella della sostenibilità una posizione ideologica, un pregiudizio che impedisca la produzione industriale. Deve essere invece una preoccupazione continua che è dentro ormai nella logica di chiunque faccia industria, in Italia e in molti paesi del mondo, forse non in tutti, che produce necessità di investimenti, che produce costi, ma che aumenta il valore del prodotto. A me pare che questo sia quello che state facendo e che anche le vostre associazioni stanno sostenendo. Ecco, ho sentito una sottolineatura stamattina su un'altra questione che è quella del protezionismo. Ora, io credo che, pur sottolineando alcune negatività, noi abbiamo preso atto che la nostra è un'economia globale e che in un'economia globale possono esserci momenti in cui particolari situazioni di emergenza giustificano anche norme protezionistiche. Ma questa non è la regola, questa non è la norma, questa non è la modalità con cui l'economia del mondo e di ciascun paese può crescere. Io credo che su questo l'Unione Europea e i singoli paesi che la compongono debbano fare una riflessione profonda, perché troppo spesso, magari esercitando un potere che momentaneamente una lobby piuttosto che un paese di cui sono in possesso, troppo spesso ci sono asimmetrie, troppo spesso non si comprende quale sia la razio con cui vengono applicate certe norme. Noi abbiamo bisogno di regole chiare, di regole uguali per tutti e che siano comprensibili e che diano certezza anche per il futuro. Quindi io credo che là dove ci sia un settore produttivo che ha bisogno di materia prima e che ha bisogno di avere mercati liberi, la risposta delle autorità europee debba essere all'altezza. La Regione Lombardia è vicina a chi produce, è vicina al vostro settore, è orgogliosa di ospitare una manifestazione importante come questa e come quella delle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel più importante polo italiano che è quello della Fiera di Milano e sostiene anche tutta la filiera che utilizza le pelli attraverso il sostegno al design, alla moda, alla creatività. Noi crediamo che, come stanno dimostrando i trend dell'economia italiana in questi ultimi mesi, che sia ora di rialzare la testa e di rilanciare il protagonismo del nostro paese, che passa soprattutto attraverso i settori in cui siamo sempre stati forti, come è il vostro. Quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie.